Sì, ah, ah, ah Oh, ma quanto Posso essere esposti, eh Possiamo diminuire Benvenuti in questa Aspetta che mi abbasso un attimo Benvenuti in questa nuova Posa Caffè Madonna, quanto tempo ragazzi Quanto tempo Allora, questa Posa Caffè non era prevista Ma ho fatto delle aperture di pacchi Che, cioè ragazzi, ci sono rimasto male Cioè, spettacolare Quindi, ma prima Aldo Ricci presenta Pausa Caffè Pausa Caffè Girano i video Di Aldo Ricci Vi apro prima questo pacco Che mi arriva direttamente dall'Australia È un pacco che mi arriva da Road Cioè, questo è il pacco Che solitamente manda Road A noi ambassador Per Natale E qui abbiamo Vediamo Una bag Sì, è una bag Poi Metto qua Questi qua Ve li faccio vedere dopo Poi c'è la classica lettera di Road Insomma, che ci fa Gli lavoro di Natale Mettiamo qua Spilletta Adesivo E credo sia una t-shirt Speriamo che questa volta la t-shirt Non sia XXL Perché loro erano abituati alla mia taglia Bravi Mi hanno mandato una taglia L Molto bella, guardate Molto bella Ma, 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 ma Oltre questa scatola Che tra l'altro è molto bella Dentro Mi ci hanno messo Due Road Video Mic NTG Che sono i road Quelli Quelli nuovi Quindi li lascio qua Così Anzi, uno lo apriamo Dai, vediamo come va Com'è Allora, io vorrei aprirlo Senza rompe niente Ci riuscirò Qui vedo Tipo Cioè Il simbolo Ah, ecco C'è la tesi Quindi lo tagliamo Qui Tra l'altro sono appena tornato Da Romani Emi Ragazzi È qualcosa di spettacolare Uscirà un bel video vlog Spero presto Vediamo se In questi giorni Riesco a staccarmi un attimo Da casa Per venire a A montarlo Ed eccolo qua Road Video Mic NTG Bellissimo Ragazzi Guardate quanto è bello Madonna Che spettacolo Finalmente All'attacco Laterale Quindi Non abbiamo più Il problema Che sbatteva dietro Bellissimo 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 Nella scatola Oltre questo Non c'è altro Finalmente Hanno fatto il cavo nero Perché Sinceramente Il cavo colorato Sì è bello Ma Dove un po' Sto cavo rosso Andrà in giro Bellissimo 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 Ragazzi È qualcosa di meraviglioso Questo Ma è così Teoria Vediamo se è uguale Sì è uguale Questo possiamo mettere qua L'attacchi così E l'attacchi Quindi attacco Laterale E via Vabbè Questo poi Avremo tempo Di provarlo Tra l'altro Sul secondo Road NTG Ho poi una sorpresa Vabbè Ma questo Ci riguarda Poi ho ricevuto Una lettera Che sta qua Da Camilla Ciao Aldo Ti scrivo con tanto affetto Per anticiparti Questa è la lettera Per anticiparti Che presto ti arriverà Il mio primo libro All'interno troverai Il famoso Il famoso Che potrai Mostrare a tutte Le tue insegnanti Perché io scherzavo Con Camilla Dicendo Camilla Cazzo Hai parlato di me In un libro I miei insegnanti Saranno sicuramente contenti Con l'occasione Per farti i miei migliori auguri Per le festività natalizie Speriamo di poterci Ingotare il resto Un forte abbraccio Camilla Quindi Questa è Camilla La lettera di Camilla E questo è il libro Che ancora non ho letto Spero di farlo Assolutamente presto E insomma C'è un trafiletto Pagina Mi sembra Di 91 Roba del genere Credo Aspettate C'è un piccolo trafiletto Eccolo qua C'è una parte Dove Parla Di me Qui E Grazie Camilla Grazie davvero Poi vi lascio il link qua sotto Se vuoi andare a prendere su Amazon Potete farlo Poi Ho aperto un altro pacco Che non era previsto E non me l'aspettavo Ed è un pacco Che mi manda Luisa Fausto L'ho già ringraziata Su Instagram Ma ragazzi Vi faccio vedere Cosa c'è nel pacco Perché Giuro Ci sono rimasto male Allora Oltre La calza per Simon Il pacco per Asia Il pacco Per Anthony Che sicuramente Non si leggerà Vabbè Lo metto qua Poi ha fatto Il panettone Dove sta? Perché io ho già Cioè L'avevo già aperto il pacco Non era previsto quest'unboxing Cioè Il panettone Ma la cosa assurda ragazzi E ve la faccio vedere Ha fatto Tantissime palline Personalizzate E le ha fatte lei Cioè Guardate Cioè C'è Meco Patti Cioè Io le apro Perché Non sarò delicato ad aprirle Ovviamente Ma prima Ho detto qua Poi L'avevo già aperta qualcuna Quindi C'è qualcuna già aperta C'è Simon C'è Asia Ragazzi Io Veramente Come vi devo ringraziare Cioè Veramente È assurdo C'è la mia frase Anzi Sa che facciamo? Siccome qui C'è il numero di telefono Adesso la chiamiamo Lui sana Aldo Ricci Pronto Buona Ciao Grazie per il pacco L'ho appena ricevuto Alta Mi ha fatto la prima voce Perché Abbiamo fatto Il ragazzo Che abbiamo fatto insieme Ma va Mettimi la voce E' Aldo Ricci Come si chiama lui? Quasi vado a rispondere Perché ho detto Ma che è come Stava fare La scatola Come si chiama lui? Giovanni Ciao Giovanni Ciao Giovanni Grazie pure a te C'è quando ho aperto il pacco Non mi aspettavo Tutta sta roba Siete stati fantastici Ragazzi Veramente È arrivato tutto intatto Sì 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 È arrivato tutto intatto Tanto i dolci sicuramente finiranno prestissimo Ve lo dico già Sicuro Vabbè le palle sono spettacolari ragazzi Sono spettacolari Grazie I miei ospiti Qui a Famiglia Sono contenta che sia arrivato tutto Grazie mille Grazie mille ancora Buone feste Insomma ci vediamo presto Sì grazie Grazie Ciao ragazzi Ciao 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 Ragazzi Questa pausa caffè finisce qua Insomma poi ci sentiamo nei prossimi giorni Nel gruppo Telegram oggi che è 24 Pubblicherò un paio di codici sconto Su Youtube caricherò la versione timeline del video in VR Voi fate Buon Natale Rilassatevi Vi raccomando godetevi queste feste Spendete un po' di soldi in regali Non giocate troppo Non bevete troppo Mangiate il giusto ma allenatevi Così compensate E ci vediamo alla prossima pausa caffè Grazie a tutti E Buon Natale